Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare del giugiolo, Zizifus Jujuba o in lingua cinese Hung Cao. Mi chiamo Fabio Farello e mi occupo di medicina naturale. Aiuto i miei pazienti a migliorare la propria salute o ripristinarla tramite sistemi di cura non invasivi. Il giugiolo come rimedio di fitoterapia è preparato dal seme estratto dal frutto essiccato. Ne esistono due di rimedi nella tradizione cinese provenienti dal giugiolo. Uno proviene dalla specie Zizifus spinosa, Suan Cao Ren, l'altro è ricavato dal Zizifus Jujuba, Hung Cao. Questo è quello che viene poi anche maggiormente utilizzato in Europa. Secondo la tradizione cinese esistono differenze tra le due varianti. Lo Zizifus spinoso ha prevalentemente un effetto ansiolitico mentre il Jujuba ha prevalentemente un effetto tonico. iniziamo dallo spinoso, Suan Cao Ren, che appartiene secondo la tradizione cinese ai medicamenta sedativa e sustenziamentis che potremmo tradurre con un certo margine di errore come ansiolitici. Il comportamento termico del Suan Cao Ren è neutrale. Il sapore è acido e dolce. Il tropismo orbitale va verso vescica biliare fegato, cuore e milza pancreas. Gli effetti descritti per il Suan Cao Ren sono la sedazione, l'aumento della struttività della condizione, l'aumento dell'OIN, riduce il sudore e sostiene ovviamente il rimedio l'orbita epatica e cardiaca. Le indicazioni per il Suan Cao Ren secondo la tradizione cinese sono l'agitazione da vuoto energetico, caratterizzata da ansia e palpitazioni, la sudorazione da vuoto energetico e infine l'insonnia. Jujuba, che sarebbe la variante più diffusa in Europa, o in cinese Wung Cao, chiamato in lingua italiana il giugiolo, quello più comunemente è diffuso dalle nostre parti, appartiene secondo la tradizione ai medicamenti a supplenzi a chi, dunque appartiene ai tonici. Il comportamento termico del giugiolo è neutrale, il sapore è dolce, l'orbita di riferimento è la milza pancreas, gli effetti di questo rimedio sono tonici, il giugiuba aumenta i chi, produce fluidi attivi, sostiene le orbite del terra, quindi sia la milza pancreas che lo stomaco e infine ha una componente sedativa. Le indicazioni dunque per il giugiolo secondo la tradizione cinese sono tonificare l'organismo, aumentare il chi, produrre fluidi attivi, sostenere le orbite di milza pancreas e stomaco, è presente anche un effetto sedativo. Il giugiolo sia nella versione giugiuba o spinosa non è controindicato in modo significativo verso alcuna condizione, salvo quella del pieno dell'energia, essendoci una componente tonica non è utile somministrare questo prodotto quando la persona è nel pieno della sua energia. Secondo la farmacopea moderna il giugiolo contiene numerose sostanze interessanti, sono presenti nel giugiolo l'antrachinoni, i tannini, la zizifusina, l'acido ascorbido, i flavonoidi e saponosidi. Di conseguenza il giugiolo evidenzia anche secondo la fitoterapia moderna alcune precise attività, è un antiastenico, è un anti-melanconico, un anti-ipertensivo, è un lassativo, è un anti-infiammatorio ed è anche un espettorante. Effetti collaterali del giugiolo non sono descritti e non sono neanche descritte interferenze significative con contemporanea assunzione di farmaci chimici. In un piccolo borgo chiamato Arquapetrarca nasce e ancora oggi viene prodotto il framoso brodo di giugiole. Si tratta di un tipico liquore preparato usando giugiole appassite che secondo la tradizione dona molta felicità da cui l'espressione idiomatica di essere in un brodo di giugiole. L'assunzione del brodo di giugiole emula pertanto lo stato di gioia e l'espressione essere in un brodo di giugiole deriva dall'osservazione di questo stato d'animo prodotto. Il giugiole compare anche in Omero quando si parla dell'otofagi. È probabile che il loto in oggetto possa essere una variante denominata Zizipus lotus. Dai suoi frutti si può ricavare una bevanda alcolica che produce un'ebbrezza gioiosa. Si tratta probabilmente di altra possibilità di preparare il famoso brodo di giugiole. Il giugiole spinoso è denominato anche Zizipus spinacristi nell'assunzione che la corona di spine fosse prodotta proprio da questa pianta. La simbologia è in relazione alla gioia della trascendenza. Giugiole a livello di etimologia deriva dal greco Zizipon. Per scivolamento linguistico si arriva a molti nomi dialettali come Zizzola, Zizoea, Zinzuli. Difficile non considerare nel suono delle parole utilizzate per questa pianta l'andamento spinoso e zigzagante dei suoi rami. La teoria delle segnature parte della fitoterapia tradizionale europea e arriva fino a Rudolf Steiner che l'ha ampiamente utilizzata nel descrivere come funzionano i rimedi di fitoterapia. Secondo la teoria delle segnature la morfologia o il comportamento della pianta svelano i suoi effetti. La felicità è la conseguenza del muoversi liberamente nel proprio habitat. L'andamento spinoso e zigzagante dei rami da giuggiolo sono un segno nella pianta di un inserimento ambientale libero da vincoli gravitazionali e simmetrici. La destrutturazione dell'agricoltura italiana operata dal secondo dopoguerra in poi ha determinato la scomparsa dal suolo italiano di questa pianta preziosa precedentemente ampiamente coltivata. Ormai la si trova soltanto presso pochi appassionati o presso casali abbandonati quando essa era ancora parte della produzione. Per un approfondimento delle caratteristiche del giuggiolo si invita alla lettura dell'articolo completo su www.agopunturablog.it L'uso del giuggiolo come medicinale è da riservare a una corretta relazione medico-paziente. Il presente video è informativo e non vuole favorire in nessun modo l'auto per riscrizione. Bene siamo giunti alla fine del video di oggi. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Spero di vedervi presto in un successivo video. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.